tredici e settecento la sbarra di Matteo Levantesi tredici tre e cinquanta mentre siamo con Lisa Iorio sempre per la Brixia alla trave sì bentornata Eli salto indietro teso smezzato un elemento di valore molto bene molto buono e ruota senza mani bene eseguita ci sono degli elementi che diventano poi abbastanza tranquilli da eseguire dopo che si fanno veramente per tantissimo tempo una ruota senza mani di norma si impara tra i nove e dieci anni sulla trave a questi livelli quindi diventano abbastanza solidi parte a terra un filino lenta la trave di Elisa forse deve lavorare un po' ecco sul ritmo di esecuzione flick salto salto brava 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 seri acro molto bene ribaltata senza mani angiambè sul posto e flick molto bene brava a livello di elementi quindi di nota di sarà sicuramente un bel esercizio questo è un giro impugnato a centottanta valore c parte coreografica prima dell'uscita e doppio avvitamento